Ok, chirurgia, emergenza, UTI. Forza e coraggio. Dio. Grazie. Merda. Non sapevano ancora niente del contagio. Non sembra così male. Chiusa, ovvio. Sarebbe troppo facile. Ok, chirurgia o emergenze. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto soccorso. Il centro di emergenza è lì. Grazie a tutti. Hai fatto tutto il possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che cazzo... Ok, qui non si scherza. Ah... Ok... 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 Andiamo... Ok... Che cazzo... Controlliamo... Passa le operatorie. Ok... Chirurgia... Perfetto... Vi sento... Vi sento... Anche qui... Anche qui serve corrente. Ok... 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 Grazie a tutti. E andiamo. Sì. 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 Dove mi sono andata a cacciare? Sì. 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 Vincolo. Meglio così. Sì. Grazie al cielo. Lev, preparati a festeggiare. Vincolo. 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 と? Vincolo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.